Dallas 1881, questo è l'uomo che ha in pugno il potere, molti occhi sono su di lui, forse uno di troppo. Secondo il servizio segreto, il pericolo maggiore sta proprio nel Texas, qui ogni cosa ha il suo prezzo, anche la vita, c'è sempre una pallottola pronta, specie per William Wheeler. E concedo 24 ore, signor Pinkerton. E' lei ad avere 24 ore di tempo, McDonald's, 24 ore per decidere se essere ricco, consegnandomi quelle prove o sparire per sempre dal mondo dei vivi. Le ore passano rapide a Dallas, troppo rapide per Wheeler. Avanti agli occhi, ha solo sangue e odio. L'avevo avvisato, Jefferson, ti ucciderò. Quanto credi di poter durare, Slim? Dammi la confessione. Sì, ogni cosa ha il suo prezzo. Gratis è solo la pelle di un negro. La morte lo segue come un'ombra. Ma davanti alla sua sei colpi è certa. Il prezzo del potere è alto e può essere pagato a rischio della vita. Ma il prezzo della vita di William Wheeler è altissimo. La morte lo segue come un'ombra.